buongiorno a tutti oggi sono nuovo con il mio zeno in giro con il metal proprio vicino casa oggi sono vediamo la prima buca che ho fatto mi dà un buon segnale accendiamo il pinpoint vediamo un po se riusciamo a trovarla in diretta proprio vediamo cosa può essere ecco qua niente una specie tipo un anello o rondella qualcosa del genere vabbè oggi il tempo è anche un po bruttino vero zeno un po volo prima ha fatto giusto due voce d'acqua niente di particolare va bene andiamo avanti continuiamo a dopo benissimo ora vi voglio far vedere una cosa molto molto vecchia diciamo è un forno di così molto antico da restaurare purtroppo ci vogliono un po un po di soldi per farlo ma lo farò è abbastanza grande anche enorme ci vogliono un po di soldi per aggiustarlo bisogna fare il tetto la canna fumaria un lavoraccio è anche grandissimo mi dispiagno mi dispiagno di così ma come posso come possiamo lo aggiusteremo ecco qua uno spagna spaccalegna antico un accetto antico mettiamola al posto tanto questa è roba mia ho chiesto il permesso a me medesimo se potevo spazzolare ha detto va bene vai tranquillo anche se già ho visto molte volte qua però qualche monetina uscite dai anche andrea l'altra volta ha trovato una monetina 5 centesimi se non ricordo male va bene vediamo vediamo un po qua nelle vicinanze chissà va bene continuiamo un altro poco sperando che no il tempo non farà niente più perché qua è nuvoloso qua c'è il sole va bene continuo se trovo qualche cosa vi aggiorno a dopo allora qua questa è una margot che ho fatto due anni fa è un alberello ormai cresciuto però tutti porta qualcuno e non li mantieni se ne cadono la dove era l'origano che abbiamo fatto ieri mattina ho fatto una bella pulizia anche qua tutto pulito qua non c'è niente neanche un piccolo suono a parte quello quella specie di rondelle che ho trovato la niente va bene vabbè va bene tu puoi passare un'oretta va bene a dopo qua mi da un suono un po' alluminio nickel ferro anche sicuro c'è anche un po' di ferro adesso niente è sparito ok ora provo a scavare vediamo cosa c'è poi vi faccio vedere cosa esce speriamo qualcosa di buono abbiamo iniziato piano piano che se è qualche moneta ma la voglio rovinare ok proviamo proviamo con il pin point vediamo per la miseria ecco qua pillole la confezione della pillola che schifezza vabbè ok continuiamo ecco qua un bel suono almeno sembra moneta ora vediamo pochi centimetri sotto facciamo piano che come dico sempre non la voglio rovinare una moneta altra cosa speriamo che sia una bella monetina vediamo sotto sotto non è tanto profonda pochi gentili speriamo qualche monetina buona è profonda ancora sì sì riproviamo io per esempio ancora un crocifisso non l'ho trovato tante motive sì monetine ma un crocifisso ancora mi manca speriamo che sia uno di questo una bella moneta d'oro qualcosa di oro anche accetto tutto dai ok e controlliamo è ancora sotto il punto è qua un repuesto facciamo piano 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 cosa è la miseria non può essere una moneta no non lo so penso penso che non è una moneta troppo troppo grande va bene per curiosità la pulirò e vedo cos'è la forma è quella della moneta però la vedo grande a dopo la pulisco e vediamo bene bene qua un altro suono però devo cambiare le batterie un attimo e poi vediamo cos'è ok batterie cambiate lo scavo lo è iniziato vediamo un po' vediamo cosa questa uscirà sono curioso di vedere cos'è quella diciamo moneta ok riproviamo è uscito ecco qua ecco 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 sembra un freggio qualcosa del genere sembrerebbe un freggio va bene lo aprirò e vediamo un po' cosa può essere sembra anche carino ecco anche sono venuto qualche volta però ma c'è sempre qualcosa va bene continuiamo qua dove ho trovato quella specie di freggio prima ecco mi da un altro suono più o meno più o meno uguale da che manca un pezzettino là potrebbe essere il pezzo che manca che manca al freggio va bene proviamo con il pin point ancora sotto mi sa che è uscito vediamo un po' spostiamo il martello si è fuori ecco ecco un bossolo mi sembra un bossolo di pistola sparato si vabbè vicino al freggio abbiamo trovato il bossolo un metro un metro un metro qualcosa ok andiamo eccomi qua altro buco vediamo un po' cosa sembra un cuscinetto è proprio un cuscinetto è proprio un cuscinetto ma va bene continuo un altro po' poi quando vado a casa vi farò vedere quella speriamo una monetona non lo so continuiamo ecco ecco cosa possiamo trovare anche qua bottigliette dei medicinali buttate così alla alla bisogna buttate via da persone ignoranti vabbè un altro poco giriamo quando vuoi trovare una monetina speriamo di trovarla ecco 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 proviamo proviamo a vedere non è neanche tanta profonda proviamo con il spin point vediamo ecco 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 piano un bello anellotto d'oro invece vedo qualcosa alluminio ecco infatti l'avevo visto bene alluminio sì e lo portiamo a casa ok eccomi a casa come avevo detto prima che dovevo pulire quella moneta una moneta è moneta però si vede soltanto appena appena la testa si vede la testa sì e dietro niente peccato deve essere proprio una bella monetona si vede un po' la testa e questa è la porcheria che ho trovato questo però mi fregge per il mobile veramente peccato questo doveva essere uno spettacolo veramente se qualcuno se ne intende mi fa sapere cosa può essere va bene il video finisce qua spero che vi piaccia iscrivetevi lasciate un mi piace un toluto da Mimmo Mas ciao a tutti